Ciao a tutti, siamo Ilaria e Giulia, violinista e flautista. In questa nuova fase di ripresa, rientro, ritorno, riapertura, noi, come la maggior parte degli artisti, dei lavoratori dello spettacolo, specialmente se intermittenti e precari, continuiamo a stare a casa. Anche noi non vediamo l'ora di riprendere, di cominciare. Di tornare ad esibirci dal vivo, davanti ad un pubblico che possiamo vedere, sentire, percepire. Al tempo stesso, però, non vogliamo che per noi tutto torni come era prima. Non vogliamo tornare ad una normalità che di normale aveva poco e niente. Non vogliamo nuovamente rischiare di scomparire. Non vogliamo tornare ad essere così fragili e impotenti da poter restare da un giorno all'altro, senza voce. Senza volto. Senza nome. Soprattutto vogliamo garantire alla musica, all'arte, alla cultura, un posto sicuro, uno spazio adeguato nel futuro del nostro paese e della nostra società. Le ragazze di Classica Futura hanno lanciato un appello che si è trasformato nella petizione Cambiamo Musica insieme. Aiutateci a cambiare firmando anche voi questa petizione. Trovate il link nel primo commento qui sotto. Grazie amici. Cambiamo Musica insieme. Cambiamo Musica insieme.